La mia presentazione parte da un tema impegnativo, l'evoluzione dei sistemi qualità nell'industria cosmetica. Sono vent'anni che i sistemi qualità sono entrati nell'industria cosmetica e stanno ancora cambiando. Il problema è come mantenere innovazione anche in questa cosa che è molto noiosa, fastidiosa, qualche volta la produzione non gli piace parlare di qualità, perché dà fastidio, però con la qualità si prendono i clienti. Questa qui è una fotografia alla quale sono molto legato, immagino che possiate capire che quello non sono io, non è mio padre, ma è mio nonno. E mio nonno mi diceva alcune cose. La prima cosa che diceva è, guarda, non ve lo dico in dialetto, ma ovviamente lui parlava così, che far bene le cose costa esattamente tanta fatica quanto farle male. Quindi ragazzi quando le fate, fatele bene, prendetevi un attimino di tempo in più e fatele bene. Ma la seconda cosa importante che diceva è che se le vuoi fare bene, se le vuoi fare bene devi, uno, sapere cosa devi fare, due, devi prepararti a farle e la terza cosa devi avere gli strumenti. Insomma nessuno oggi può fare una polvere, un cosmetico se non ha le macchine giuste, se non ha la formula giusta, se non sa chi la vuole vendere, se non sa con quale storytelling, si chiama così, strumento sopportarle e venderle. Questo è una cosa che quel signore lì nato nel 1908, quindi ben più di cento anni fa, negli anni 50, negli anni 60, aveva imparato lavorando su un telaio e mi ha trasmesso. Bene, io su questo con un po' di fortuna ho messo in piedi un'attività, un'azienda che si occupa fondamentalmente di sistemi qualità, cioè di aiutare le aziende ad applicare la qualità e siamo nati, lo dico con un po' di rimpianto, 20 anni fa e ho fatto un conto giusto in questi giorni, abbiamo erogato solo nel mondo della cosmetica da allora ad oggi circa 20.000 giornate di lavoro. Noi non produciamo pezzi, non possiamo dire quanti milioni di pezzi facciamo al giorno, noi diamo ore e ore di lavoro. La nostra evoluzione ci ha portato a seguire le aziende cosmetiche e a cercare di capire che cosa c'era bisogno. Io l'ho chiamato il Q-factor cosmetico. Guardate, non è una cosa banale e non è nemmeno banale vedere come sia stato interpretato dalle diverse aziende. Di sicuro la certificazione non è la cosa più importante. Di sicuro la cosa più importante sono che cosa? Sono non gli aspetti formali ma sempre l'efficacia delle soluzioni adottate. La cosmetica è fatta di efficacia, anche se è una cosa di belletto, anche se è una cosa, come si dice, di make up e cioè che è solo lì che la vedete. È fatta di efficacia. Se uno non è capace di essere efficace non può fare la qualità. E guardate che lo dico considerando il fatto che la qualità all'interno delle aziende cosmetiche, come dicevo prima, non è amata. È un po' subita, è un po' sopportata, vero Franco? Come viene percepita la qualità nelle industrie cosmetiche? Così. Prodotto eccellente, organizzazione eccellente, cioè sapere chi fa che cosa. Delle buone GMP ma anche delle infrastrutture moderne. Abbiamo sentito tutti parlare di belli stabilimenti, belle macchine, le presentazioni che mi hanno preceduto hanno fatto vedere cose di questo tipo. Ma anche, e sopra però, questa qualità percepita, c'è la qualità che è per esempio le qualificazioni dei brand importanti. Ah, io sono stato qualificato da L'Oreal, io sono stato qualificato da Avon, io sono stato qualificato da Procter & Gamble. Unilever è il mio cliente. Questo è un indicatore importante della qualità, così come viene percepita nell'industria cosmetica. Allora, qual è la nostra missione? La nostra missione è quella di interpretare questa cultura di assicurazione e qualità, ma andando a parlare la lingua della cosmetica. E quindi, in particolare, di curare che cosa? Di curare che il prodotto sia buono e quindi che ci sia un buon controllo qualità. Di curare che le lavorazioni siano efficienti. Non sempre ci si riesce, ma il controllo di processo è l'arma che serve. E di curare anche le buone prassi di fabbricazione, cioè che il prodotto sia protetto. C'è un'altra considerazione importante. Guardate, il mondo della cosmetica, io lo frequento da vent'anni, ci sono arrivato un po' per caso. Io sono formazione chimica, conosco molto bene il mondo tessile dove ho lavorato, il mondo della consulenza, della formazione, dei laboratori. Ma il mondo della cosmetica in questi ultimi vent'anni è cambiato drasticamente. Vent'anni fa c'era un modello di terzismo in cui c'erano i brand che arrivavano e dicevano, ok, guarda ragazzo mio, questa è la forma, tu mi devi fare questo. Non uscire da quella forma, non uscire da quel metodo. Oggi è cambiato? Cioè, chi prima faceva questo è stato costretto a diventare un imprenditore, a gestire la ricerca, il marketing, l'approvvigionamento. Quindi anche la qualità è cambiata e ci si è dovuti confrontare con una moltiplicità di aspetti. Quindi un po' di tempo fa la qualità era solo rispettare le specifiche che ti dava il grande cliente, poi dopo c'era anche la sicurezza ovviamente da gestire e c'era anche da stare attenti alla soddisfazione del cliente. Ovviamente non si poteva, ma l'industria cosmetica è abbastanza tranquilla inquinare l'ambiente. Queste cose non bastano più. Non bastano più perché ci sono le GMP, ci sono i processi, ci sono le risorse umane, l'innovazione e così via tante altre, tante altre, io le chiamo discipline, cioè guide per una buona gestione dell'azienda. Quindi oggi le aziende si trovano a doverle gestire tutte assieme. Ma come? C'era una frase ripetuta diverse volte nei convegni, diceva che il signor Ford diceva io ti darò qualsiasi macchina, purché è nera, una macchina di qualsiasi colore purché è nero. Oggi le aziende cosmetiche chiedono soluzioni, qualsiasi soluzione, purché sia lean and quick, snella e veloce. Cioè non c'è il tempo da aspettare, dobbiamo farle rapidamente e dobbiamo farle in modo che non sia pesante. Quindi l'efficienza è diventata una delle caratteristiche più importanti e di conseguenza anche il mondo della qualità che tradizionalmente è un mondo di manuali, procedure, cartaccia, registrazioni, cose che non si sa perché ci sono e ma devono essere fatte. Questo non è più applicabile. Il mondo della cosmetica ha bisogno di cose lean and quick. Allora la nostra scommessa è questa qui. A me piace la montagna, ma io non ho voglia di farlo scerpa, non ho voglia di portarmi sulle spalle tonnellate di carta che non legge nessuno e che non serve più nessuno. Non sono un surfista, ma sicuramente questa è la figura sulla quale mi riconosco di più oggi. Cioè noi oggi dobbiamo pensare ad un sistema valità che sia simile a questo. E per farlo il primo passaggio è questo. Allora innanzitutto vorrei commentarvi questa roba qui. Oggi si è parlato molto di industria 4.0 di digitazione. Li vedete questi numeri qui? Questi qui sono le cose che stanno dentro un computer. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0. Questo è il digitale. Questo è il simbolo della informazione, cioè di una cosa singola, di un dato, di una conoscenza che è diventato il nuovo modo di interpretare i sistemi qualità, la gestione delle aziende. Allora il mio motto è non più documenti o registrazioni, ma informazioni. Non l'ho inventato io, sta nella nuova norma, ma il concetto è, cioè scusate, la difficoltà è trasformare questa intuizione in qualche cosa di utilizzabile. Questa qui è una slide che a me piace moltissimo. Facendo i sistemi, come vi ho fatto vedere poco fa, con zero carta, abbiamo un rischio. Penso che qualcuno di voi l'ha vissuto con me. Io la chiamo la sindrome panini, voi la conoscete panini, no? La sindrome panini è anche detta sindrome delle figurine. A scuola io ce l'ho, tu ce l'hai, ce l'hai, ce l'ho doppia, la vuoi e la scambiamo. Ma è anche detta sindrome dell'auditor, so tutto io. Quando ci sono gli auditor, dei clienti, ma anche quelli di certificazione, l'auditor deve sempre trovare qualcosa da dire. E molto spesso è, ah ma non c'hai questa procedura, ti manca questo modulo, vero? Il rischio qual è? Che manca sempre qualche cosa. Bene, è un rischio che dobbiamo correre, che io corro volentieri. Perché? Perché se corro questo rischio sono in grado di passare da una gestione di una situazione di questo tipo, questo era un sistema qualità di, non dico tanto, dieci anni fa. Questo è il sistema qualità di oggi. Noi oggi abbiamo, dobbiamo gestire, per gestire la qualità, insieme alla sicurezza, all'ambiente, alle GMP, alla responsabilità sociale, una quantità di informazioni elevatissima. E quindi io mi accontento di correre qualche rischio. Per fare questo abbiamo inventato quello che noi chiamiamo un modello ABJ, che non è nient'altro che l'applicazione del concetto di gestire informazioni invece che documenti e arrivare con questi a gestire quello che è un albero delle decisioni. Sapere chi deve fare, cosa deve fare, quando lo deve fare, con quali strumenti e con quali criteri decisionali. Questo è un esempio molto semplice. Questo qui è una teoria. È una mia teoria, per cui le posso anche parlare male. Questo qui è bellissimo, c'è tutto lì dentro, ma poi per applicarlo è difficile. E allora se noi passiamo ad una tabella in cui ogni casella ha una spiegazione, ha un'indicazione precisa, diventa più facile applicarlo. La nostra vision qual è? La nostra vision è stare sempre un passo avanti, questa strada è una strada canadese che anche questa fa parte di un ricordo molto bello e la via è questa. Noi dobbiamo imparare a correre avanti, andare avanti. Innovazione significa questo. Vi lascio con quest'ultima slide. Quando ho parlato con Erika di innovazione, ho detto eh sì, ma ragazzi, ma io devo parlare di sistemi di qualità, che cosa vuoi che ti parli di innovazione? E poi mi è venuta in mente questa immagine. Un po' di anni fa, più o meno dieci anni fa, ho partecipato a un'altra Innovation Day. E quell'Innovation Day a un certo punto, quasi finito eh, a un certo punto chi conduceva la discussione, era un workshop, ha tirato fuori una graffetta di questa e ne ha dato una a ciascuno dei partecipanti. E gli ha detto bene, adesso vi do cinque minuti e voi cercate un modo creativo per usare la graffetta in un modo che non sia quello di tenere insieme dei fogli di carta. Ve lo cito perché ovviamente ho vinto a mani basse. Ma perché ho vinto? Ho vinto semplicemente perché ho ripercorso la mia giornata lavorativa in giro per le aziende, in giro per i vari processi e mi sono identificato in che cosa poteva servire in ciascuno di questi. Poi da un punto di vista di GMP, ovviamente lasciamo perdere. Allora che cosa vuol dire Sound of Innovation? Sound of Innovation significa che se io agitando una scatola all'interno delle quali ho delle mollette, scusate ho delle graffette e sento semplicemente dei pezzi di ferro che si agitano e sento solo uno strumento per tenere insieme dei fogli, non sono capace di fare innovazione. Se sento qualche cosa che mi dice, sì ma io con questa roba qui potrei fare un portafotografie, potrei fare lascio a voi, allora io sono in grado di pensare in innovazione. Bene, l'innovazione che noi pensiamo è attraverso questa immagine anche nei sistemi di qualità che sono così noiosi e così fastidiosi per i nostri imprenditori della cosmetica. Vi ringrazio.